Anelli, vi siete rivolti alla Corte dei Conti per un presunto danno irrariale sulla gestione dei rifiuti a Montesilvano. Perché? Perché la situazione è davvero grave a Montesilvano. Siamo in un momento storico particolare. I cittadini continuano a pagare colpe della politica, colpe degli amministratori di Montesilvano. Noi vogliamo fare in modo che la Corte dei Conti faccia luce su questa situazione veramente gravissima. Siamo in una situazione in cui i comuni devono rispettare due normative. Le normative europee, la 2020-20, e la normativa regionale, la 45-2007. Ovvero, si stabilisce il 65% della raccolta dei rifiuti che debba essere differenziata. Questo quantitativo, alla data del 2012, doveva essere raggiunto. Il Comune di Montesilvano, ad oggi, quindi nel 2014, è fermo al 20%. Sono numeri agghiaccianti. Era una città di 55.000 abitanti, oramai la quarta d'Abruzzo, che ha superato anche altri capoluoghi. La situazione è veramente agghiacciante. Perché? Perché è il cittadino che continua a pagare gli errori della politica. Non è più possibile. Anche perché, non rispettando questi normativi, il testo unico dell'ambiente e la 45-2007 della regione Abruzzo, ne andiamo incontro a un aggravio. Anzi, noi paghiamo già un 20% di aliquota in più rispetto a quello che dovrebbe essere la normale bolletta. E questo chi lo paga? Lo paga il cittadino. Il problema nostro è che la politica non si prenda le responsabilità delle azioni che ha fatto e non compie ancora atti propria e autici per raggiungere un quantitativo di differenziata che deve essere superiore a quello che è attuale, a quello che è oggi. Il 20% è inutile per una città di 55.000 abitanti. Dovremmo raggiungere il 65 per evitare di andare a pagare di più sulla bolletta. Anche perché sono due le problematiche. Uno è che noi giornalmente riceviamo delle sanzioni da parte della regione su quelle che sono i quantitativi non rispettati. La seconda cosa è che facendo una raccolta differenziata puntuale, precisa, attuale, noi riusciamo ad avere degli introiti come comune. Benissimo. I mancati introiti e l'aliquota aggiuntiva, chi lo paga? Lo paga il cittadino. Ed è una cosa che non può più andare avanti. È insostenibile adesso.